Non è possibile che in una democrazia manzata come la nostra la metà degli elettori resti a taglia e per di più che questi elettori siano per la maggior parte gli elettori del centro-destra e non potrete lamentarvi della cattiva gestione dell'amministrazione comunale se al posto del buon governo del centro-destra ci sarà ancora un pessimo governo di sinistra. La colpa sarà vostra, sono vostra, quindi andate a votare, andate a votare, andate a votare e fate votare anche i vostri familiari, i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri fidanzati e le vostre fidanzate. E se non essendo andate a votare avrete ancora la Roma di adesso, non potrete lamentarvi, ve la dovrete prendere solo per voi stessi, se non avete fatto il vostro dovere di elettori in una democrazia come la nostra.